Allora, vedi, lì su Google Earth sono segnati tutti i punti di controllo che l'associazione ha in convenzione. Quindi, in caso di necessità, lei dirà sul Gavardello 6 c'è una sondazione e voi vedete subito qual è il punto da chiudere. Scenari idraulici, idrogeologici e la gestione delle procedure anti-Covid. Sono stati questi i temi di Prometheus 2021, l'esercitazione della protezione civile del comune di Arezzo, che si è svolta domenica 24 ottobre. Loro si trovano in zona Lignano e stanno simulando un intervento riferito al rischio idrogeologico e vento. Praticamente stanno soccorrendo delle persone che sono state bloccate dalla caduta di alberi. Due gli scenari, il campo base al tramarino e la sala operativa comunale di Piazza Fanfani. Arezzo 70-04 da 70-07. Mi dai la tua posizione per piacere? 70-07 da 70-04. Siamo quasi in prossimità dell'intervento. Oltre 70 i volontari di Croce Rossa, Misericordia alla Racchetta e Associazione Carabinieri che hanno partecipato. Se io avessi dei tubi morbidi, al momento che lui aspira, quindi mi fa una contropressione, il tubo si schiaccia e quindi l'acqua non viene.